Da giovedì 1 settembre sarà possibile ottenere il bonus trasporti stabilito dal decreto aiuti e stanziato con un fondo nazionale per il 2022. La domanda per l'agevolazione può essere inoltrata attraverso l'apposito sito predisposto dal Ministero del Lavoro. Il bonus permette di ricevere un contributo massimo di 60 euro per comprare abbonamenti annuali o mensili. Anche Autoguidovie si è attivata per rilasciare l'agevolazione ai propri abbonati. A partire da settembre chi utilizza i mezzi Autoguidovie potrà acquistare un abbonamento annuale o mensile con uno sconto che arriva fino a 60 euro secondo le modalità che verranno pubblicate sul nostro sito, spiega Laura Boitano, responsabile dei sistemi tariffari di Autoguidovie. L'obiettivo è permettere la gestione del bonus sia presso le biglietterie che online. Questo permetterà di gestire al meglio i forti afflussi che si prevedono, conclude Boitano. L'incentivo è riservato alle persone fisiche che nel 2021 hanno avuto un reddito non superiore ai 35.000 euro. Va richiesto entro il 31 dicembre e le domande verranno accolte fino all'esaurimento delle risorse del fondo. Il bonus dovrà poi venire speso entro lo stesso mese nel quale viene rilasciato. Per fare richiesta bisogna andare sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con speed o carta d'identità elettronica. All'interno del form bisognerà inserire l'autocertificazione dei redditi, l'importo dell'abbonamento da comprare e l'operatore di trasporto pubblico scelto. Terminata la procedura si ottiene il buono da presentare all'operatore selezionato sul sito.